È un nuovo mese e questo significa che in edicola ci sono delle nuove emissioni di prodotti di carte Pokémon da controllare. Sarà ancora possibile trovare consistentemente dei pacchetti che contengono le tanto ambite espansioni di spada e scudo? Oppure i nostri set preferiti di due anni fa stanno ufficialmente svanendo dalla faccia della terra? Beh, una cosa è certa. In questa serie ci occupiamo proprio di scoprirlo e come al solito vi porterò assieme a me per non perdervi neanche un secondo di questa uscita. E infine però, come vi ripeterò sempre, vi ricordo che questa non vuole essere una rubrica dedicata agli investimenti. No, esatto. Va presa come un'avventura a caccia di ciò che ormai è appurato essere un po' più difficile da trovare. Tutto qui. Buongiorno e benvenuti in questa nuova avventura on the road per le edicole. Oggi vi porto in delle città vicino a Padova che però non abbiamo mai visitato per queste nostre piccole gitarelle. L'obiettivo però resta sempre lo stesso. Trovare qualche prodotto di carte Pokémon con dei pacchetti di spada e scudo che ormai sono sempre più difficili da trovare. Una cosa che sappiamo per certo è che ci sono ancora i blister a 9,90 o con origine perduta oppure tempesta argentata. E quelli un paio li prenderò sempre. Però noi vogliamo anche la varietà, vogliamo vedere tutto quello che è disponibile. Per non parlare del fatto che da alcune indiscrezioni che ho ricevuto pare che ci potrebbe essere ancora dei tregali qua in giro. Quindi come al solito ricapitoliamo. Ci piace astre lucenti, ci piace assolutamente tempesta argentata, origine perduta, anche lucentezza siderale e perché no andando indietro troviamo anche i colpo fusione, ovviamente evoluzione etere, regno glaciale, insomma questi li conosciamo tutti. E adesso però partiamo. Stavo cercando proprio queste, proprio le carte Pokémon, posso dare un occhio? Grazie. Tempesta argentata. Queste mi sa che sono tutte con tempesta argentata. E poi qua. King Gambit. E ti vedi destino di Paldeo? Quanto? Immagino che sia il classico... Eh sì, il prezzo era il classico 54,90 ma lì per lì proprio non riuscivo a trovarlo. Quindi riponendolo la mia attenzione si è subito spostata sui pacchetti singoli. Inutile dire che ormai è lampante che non ci sia più nessun pacchetto singolo di spada e scudo. E anche nel secondo box era la stessa cosa, c'era Paradosso Temporale e dall'altra parte Ossidiana Infuocata. Ma per fortuna al piano sotto c'erano le confezioni con le collezioni da quattro pacchetti che solitamente nascondono qualcosina di almeno un minimo interessante. E questo era proprio il caso della collezione di Ciclizar. Non un prodotto incredibile ma tra tutte le altre riesce un pochettino a spiccare. E così con un Ciclizar in mano e dopo aver scelto due blisterini da 9,90 mi sono avvicinato per l'acquisto. Allora mi prendo questi due e questo qua. Grazie infinite, buona giornata. Questa deve essere la prima volta che succede. Prima edicola del video e abbiamo già preso qualcosina. Tra l'altro abbiamo speso anche abbastanza. Allora, la collezione di Ciclizar non è incredibile ma comunque con due pacchetti di spada e scudo uno dovrebbe essere di Astridocenti, l'altro di Tempesta Argentata direi che comunque è un acquisto tranquillo rispetto a quello che si trova e poi ovviamente, l'avevo detto, un paio di blisterini a 9,90 si portano sempre a casa. Salve, buongiorno. Posso chiedere se posso dare un occhio alle carte Pokémon? Beh, questa in realtà era una domanda un po' retorica, perché molto era già in bella vista e si vedeva che non c'era nulla di conveniente. E dopo aver fatto finta di interessarmi al bundle di Destino di Paldea, bisognava fare una domanda un po' più specifica. Qualcosa di relativamente nuovo che è arrivato negli ultimi giorni? Ah, allora do un occhio. Ecco, vedete, è quello che dico sempre. Meglio una domanda in più che una domanda in meno. A prescindere dal fatto che, è vero, alcuni edicolanti sembrano davvero molto scontrosi. Ok, no, questi sono quelli nuovissimi. Qui abbiamo ancora Tempesta Argentata, Blister Segreto. Ma no, alla fine, questa volta anche la domanda in più non ci ha aiutato a trovare qualcosa di gustoso. Quindi, rapido controllo per vedere se tutti i blister da 9,90 fossero quelli con Tempesta Argentata e per caso non ci fosse qualcuno con Origine Perduta, e poi ci siamo diretti fuori. Secondo edicola, buco nell'acqua. Questa volta proprio non sono riuscito a trovare nulla. È vero, anche qua c'erano i blisterini a 9,90, ma come ho detto a inizio video, vogliamo anche trovare un po' di varietà. Nonostante il fatto che, ricordo, i blisterini a 9,90 significa che sono tre pacchetti e paghi 3,30 euro l'uno. Quindi comunque sono estremamente convenienti. Buongiorno, salve. Le chiedo, posso dare un occhio alle carte Pokémon? Le ho viste... Nessuna ragazza questa mattina. Fantastico. E anche in questo caso, ormai abbiamo capito che non c'è nulla dentro a questi boxetti, però anche per una questione di rispetto verso l'edicolante, meglio controllare. Posso controllare questa qui? Sì. Bene, e questo è il momento perfetto per parlare di Minitin. Da oggi, infatti, controllerò minuziosamente tutte le Minitin presenti in edicola, perché più persone e più fonti mi fanno sapere che possono scivolare delle tin che non dovrebbero essere lì. C'è la possibilità che scivoli qualcosa di zenitregale, c'è la possibilità ancora remota che ci sia qualcosina di 151 e quindi... Sì, vale proprio la pena. Ed ecco, infine, un altro prodottino tanto snobbato ma che, secondo me, quando non si vedranno più, mancherà molto. Io prendo questo qua, invece. Fantastico, grazie mille, buona giornata. Per un secondo ho pensato che potessero essere quelle ancora con evoluzioni etere e origine perduta, ma in realtà no. Erano le stacking tin, quelle uscite nel 2023, che comunque su tre pacchetti abbiamo due di spada e scudo, uno dovrebbe essere lucentezza siderale, l'altra è astri lucenti, quindi comunque molto buono. Ehi, fermi un secondo, ma può essere che abbiamo superato i sei minuti di quale è questo video e vi siete ancora dimenticati di lasciare like? Qua bisogna rimediare. Salve, buongiorno. Le chiedo, avete carte Pokémon qui? Sì. Nascolte qua? Sì. Fantastico, posso dare un occhio? Sì. Grazie mille. Guarda caso, restano sempre quelle con soffo ferreo. Questi sono i nuovi. Coronastrale, quindi a 5. Segreto fiabesco. Poi ieri sono arrivati queste sopra il banco. Allora, vabbè, poi do un occhio. Sì, questa è una bella spappolata. Però sì, questo fa sempre piacere per i due. Era veramente distrutta. Comunque per aprire potrebbe essere lo stesso buono. Questo... Uh, attenzione. Beh, sì, questo era il momento in cui pensavo di aver trovato i blister con origine perduta. Attenzione, attenzione, che forse abbiamo trovato i con origine. No, scherzavo. Sembrava origine e invece... No. Queste sono ancora tempesta argentata. E vabbè, uno può anche sognare qualche volta. E sapete che a questo punto sembra che i blisterini con origine perduta siano forse finiti? Greninja. Che se non avessi forse la prenderai. Ma ce l'ho. E sono apposto così. E quindi ha detto queste. Sì, 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 queste qua sono quelle nuove. Ci sono anche i box da 6G6. Quindi alla fine, nulla. Unica cosa che potenzialmente poteva essere interessante come acquisto era proprio la collezione di Greninja di Segreto Fiabesco, ma non tanto perché è rara, ma più perché quella promo è bellissima. Niente, grazie mille. Ciao. Quarta edicola abbastanza fornita. Ancora tanti blisterini. Ancora la collezione di Ciclizar che, sinceramente, questa volta l'ho lasciata lì perché sono forti, ma non eccessivamente forti. Ottime da spacchettare. E quindi, niente, dai, andiamo alla prossima. Salve, ha le carte Pokémon. Sì, bustine? Le collezioni più che altro. Se ci sono, se no do un occhio alle bustine. Cosa cercavi? 151? No, 151 non penso ci sia. Mi fa morire ogni volta che un edicolante rompe la quarta parete e ti parla anche lui di Pokémon. Cioè, immaginate questa povera signora quante volte ha dovuto rispondere che 151 non ne ha più. Però fortunatamente l'ho completata quella collezione, quindi io sono a posto. Sono raccoglitori di sopra. Sono raccoglitori. Mi interessa i raccoglitori di sopra. No. Queste? Le ho viste. Sì, queste le ho viste. Eh, proprio no. Questa edicola era messa male. E quindi dopo un controllo di rito ai pacchetti singoli era già arrivato il momento di salutarsi. No, allora, niente. Grazie infinite. E anche la quinta edicola, niente da fare. Questa era sicuramente un po' più centrale, quindi era stata depredata, beh, sicuramente qualche giorno fa. Ora resta l'ultima e poi ci rivediamo a casa con un recap generale. Buondì, posso dare un occhio a queste cose? Ah, altro oltre a queste qua, là sopra? Questo lo conosciamo. Questo aveva tutto paradosso, quindi no. Qua abbiamo due di origine perduta, ma così, così. Se non l'hai visto, lo posso vedere bene. Vorrei sapere quelle tre e magari sapere cosa c'è dentro la scatoletta rossa. Oh, ricordate? Ormai tutte le minitin si controllano molto da vicino. E infatti questa nello specifico aveva ancora menzionato il segnalino viastro dietro, quindi sicuramente conteneva qualcosa di spada e scudo. E quindi, sì, non sapendo bene cosa ci fosse nello specifico, ma essendo quindi un po' intrigato, ho scelto di acquistarla. Grazie infinite, buona giornata. E quindi, eccoci qua, tornate a casa anche da questo decimo episodio del Giro delle Edicole. Alla fine la minitin era della serie Amici di Paldea, che quindi conteneva proprio un pacchetto di Tempesta Argentata e uno di Scarlato e Violetto. E infine, ricapitolando, devo dirlo, non è stato uno dei nostri giri più fortunati. Spada e scudo c'è ancora, ma ormai li troveremo praticamente sempre appaiati anche con qualcosina di Scarlato e Violetto. Questa è la situazione.